Ciao a tutti, l'ho anticipato stamattina sulla mia pagina Facebook, Frachico89, e sono stato chiamato per partecipare al campionato nazionale. Come saprete mi sono qualificato al campionato Ligure quarto, e il terzo, se non ho capito male, non partecipa, quindi andrò con Mattia in Calabria. Sicuramente è veramente una bella esperienza. E certamente l'obiettivo non è quello di pensare a un risultato, ma è quello di imparare qualcosa. Sicuramente sarà un'esperienza che mi aiuterà a crescere sia a me che a Mattia. Comunque andare a un nazionale non è da tutti, voglio dire, per me è veramente un onore, una bella soddisfazione. Sto cercando di reperire insieme a Mattia qualche piccolo sponsor, perché comunque dovremo rinunciare a due giorni di lavoro perché partiamo venerdì mattina presto e comunque giovedì dovremo dedicarci un po' a preparare le valigie, preparare le cose. Poi stiamo via, quindi venerdì sabato e torniamo domenica. Oltre alla spesa del viaggio dobbiamo considerare che perdiamo qualche giorno di lavoro. Purtroppo questi giorni piove, 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 quindi il lavoro ne avremo da fare, ma quando piove rimaniamo fermi. Quindi diciamo che se riusciamo a trovare qualcuno che ci dà una mano non è male. Quindi se per caso anche qualcuno di voi volesse contribuire, siamo ben contenti. Niente, ho fatto questo breve video solo per informarvi di questa buona notizia. A breve usciranno altri video sulla potatura degli olivi, quindi mi raccomando seguitemi, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao ciao!